Oh, eccoci qua, pure noi a fare video sul calcio, incredibili eh? Non si ferma mai la mia voglia di sperimentare cose nuove qui sui social, ma... Era arrivato il momento, quindi per questo video mi limiterò a parlare solo della mia squadra, così non mi becco gli insulti, anche se mi beccano gli insulti dei milanisti. Sì, stitifo a Milan, come ben sapete. E ho intenzione di far partire una nuova rubrica, non so se sempre con questa inquadratura, magari ve la faccio pure col cellulare alcuni, sti cazzi, in cui parlo delle partite del Milan, o se vi piacerà poi la mia maniera di analizzare le partite di qualche altra partita in generale. Ovviamente serve anche a voi nei commenti a lasciare le vostre opinioni, così magari ci... Vediamo se siamo d'accordo, o cos'è così, o se siamo pazzi a pensare certe cose. Quindi vi invito a interagire col video, se siete milanisti, se non siete milanisti, se volete dire la vostra sul calcio, è ben accetta, ne parleremo in altri video, cercherò di prendere sempre i commenti. E nulla. Ciao bellissimi. Che si dice? Come state? Allora. Ieri ho visto la partita del Milan. Atalanta-Milan. Che è finita, come ben sapete, 1-1. Ho aspettato un giorno, cioè ho dormito la notte, e poi sto registrando questo video la mattina del 22, in modo da non, come dire, usare parole troppo forti, perché è caldo, come ben sapete. Non sappiamo gestire spesso le nostre emozioni. Che dire? Io spero di non dover fare tutti i video come in questo, dove mi lamenterò della mia squadra. Spero di fare una stagione, non dico come l'anno scorso, ma lineare, pulita. Non gli si può dire nulla, anche se è difficile, perché anche l'anno scorso avevo da ridire, perché sono un cacagazzo. E nulla. Il video voglio strutturarlo così, anche per le altre volte, poi magari mi consigliere voi. Facciamo un'analisi generale della partita, della situazione, della squadra, e poi leggere velocissime pagelle, così su due piedi, e poi cosa mi lascia di positivo e di negativo la partita. Allora, Atalanta-Mila, 1-1. Parliamo a... Che, beh, finalmente posso sfogarmi sul calcio, così nessuno mi deve sentire, anche perché non c'ho voglia di parlare con la gente di calcio. Allora, Atalanta-Mila, 1-1. Siamo partiti male, come sempre. Cioè, rega, io non capisco, non capisco. Eh, boh, forse siamo rimasti alla fine della stagione scorsa, che poi giocavamo le valle in campo, giocavamo bene, le altre squadre non esistevano più. Eh, probabilmente i ragazzi in campo non hanno capito che lo scudetto dell'anno scorso non deve essere motivo di... eh... crogiolarsi sui allori. Ma, eh, di dover fare di più in Champions League e di più in campionato, perché l'anno scorso abbiamo fatto bene, però si può fare sempre meglio, no? E... Anche se fare meglio dell'anno scorso, voi mi direte, eh, cazzo chiedi. Ah, allora. Senza tagli, perché... parlerò a raffica, non mi cagate il cazzo. Io vi dico, siamo partiti male. Siamo partiti male, come... come con l'Udinese. Ma ormai, eh, siamo abituati, noi milanisti, a partire con un gol subito. Praticamente partiamo con un gol di vantaggio agli altri. Cosa che l'anno scorso, vi devo dire la verità, molte partite pure succedeva. Molte. Abbastanza. Però sai, si riusciva sempre, c'era quella magia dell'anno scorso che si riusciva sempre a ribaltarla, sempre il Milan era vivo. Come con l'Udinese, alla fine poi abbiamo avuto in pugno il gioco, abbiamo avuto il controllo, ma ieri, raga, io... Certo, abbiamo pur sempre fatto noi la partita, a mio modo di vedere. Comunque abbiamo attaccato di più, abbiamo creato di più. E che proprio non c'era un'idea. Non c'era un'idea, perché i giocatori in campo, raga, sono messi alcuni, alcuni, la maggior parte, male. Nel senso che io voglio partire da centrocampo in su. Cioè, anzi, parliamo dell'attacco prima, perché secondo me è lì il problema. Messias. Messias. Ora, io non so bene le dinamiche del mercato, ma è possibile, dico io, che in questa sessione di mercato non vogliono comprare un'ala destra, nonostante vedano che ci manca di qualcosa. In più, Brain Diaz. Le voglio bene, cioè, ha giocato pure bene con l'Udinese. Ma no, 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 non puoi fare il titolare, se giochi così, se sei in queste, non puoi fare il titolare nel Milan, perché il Milan è una squadra importante, deve giocare come Cristo comanda, e se tu ventri in campo in quel modo, come sei entrato in regola d'altà, ma che cazzo c'è? Capisci? Non va bene. Poi, Leao, Leao, vabbè, MVP della stagione scorsa, sappiamo tutti il suo potenziale, è l'unico che quando si accende è veramente pericoloso della nostra squadra, è l'unico top player, però pure ieri, come Cludinese, cioè, ce l'ha sempre le sue cose, però, non lo so, è come se lo vedessi leggermente più svogliato, ma non nel senso che non è scarso, non è che ha giocato malissimo, è che, non lo so, c'ha la scintilla, però poi non scoppia, non lo so, l'anno scorso era un po' diverso, magari se deve ambientare, deve un attimo capire che cazzo fare questa stagione delle sue potenzialità, della sua vita, per finire, quello che secondo me ieri era un pesce fuor d'acqua totale, a differenza della partita con Ludinese, avete capito di chi sto parlando, di Anterebic, ragazzi, Anterebic, tutti che dite, eh, ma da punta, può fare il titolare, gioca bene, regà, no, no, Rebic, no, non è, non è la punta che serve al Milan, non è un, non è una punta di ruolo e si vede, si vede, serve una punta, pure un Giroud, come l'anno scorso, te fa la differenza, perché la sa fare la punta, Rebic, se fa gol tutti i game, non è perché fa la punta, è che c'è un, un buon senso del gol, e se lo metti davanti alla porta, ovviamente fa, fa il suo, ma d'esterno sinistro già fa fatica, eh, se ha meno occasione a segnare, così tanto, poi l'Udinese, vabbè, abbiamo visto che era una squadra un po' disorganizzata, anche se, alla fine, siamo partiti male pure con loro, però bene, boh, nel senso della partita di ieri, come analisi, questa è stata una partita, parliamo della difesa, del centrocampo, regà, Benesser, il migliore in campo, cioè come sempre, molti lo sottovalutano, io non capisco perché, dobbiate pisciare in testa questo giocatore che, è, un top player, secondo me, è molto sopravvalutato, cioè sottovalutato, perché, uno che ti vince, la coppa, del miglior giocatore, nella coppa d'Africa, dove giocano, sarà, eh, Mane, Marez, cioè, cioè, sarà un motivo, cioè, sarà abbastanza forte, ci capisci, lui l'ha svolta da ieri, se non c'era la giocata del singolo, del fenomeno, di Benesser, non si andava avanti, ieri, nella partita, la squadra è stata completamente distaccata, dalla partita, erano, non lo so, sovrappensi, sembra che manco sono scesi in campo, dà fastidio da tifoso, dà fastidio, soprattutto perché, se è una squadra che ha appena vinto lo scudetto, dovresti andare, sull'onda dell'entusiasmo, e far vedere a tutti, che te lo sei meritato, eh, cioè, scusami, poi, vabbè, Donali, Donali, che glielo vuoi dire? Donali ha fatto una stagione da 10 l'anno scorso, nove e mezzo, dieci, siamo lì, e ieri era un pesce fuor d'acqua, perché? Perché non era in condizione, ma è colpa sua? No, è colpa di Bioli? No, regà, neanche di Bioli che lo fa giocare, è che non abbiamo una cazzo di alternativa, perché non mi puoi dire che se n'è andato che sì, e la sua alternativa è Pobega, 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 al Torino, ha già fatto benino, ma è il Torino, cioè, il Milano non è il Torino, capito? Cioè, Pobega, chi giocava ieri al posto italiano? Bagaioco, Bagaioco, e se non è l'infortunato chi avevamo? Krunic, wow, lo vogliamo comprare, un Cristo di mediano, o dobbiamo giocare tutto l'anno, se si infortuna qualcuno, corna facendo, con Bagaioco, Krunic, che per carità rispetto per Krunic, però, con Bagaioco, è Pobega, cioè, io, boh, ok, perché l'hanno già detto, Adlì è un trequartista, Adlì è un trequartista, e non c'è nulla, nota positiva, Ternandez, Calullo ieri stranamente mediocre, nonostante gioca sempre bene, Calabria, ha sofferto moltissimo fisicamente, ma non è andato così male come Ticolo, secondo me, Ternandez, sempre top player pure lui, ha acceso la partita, però non concretizziamo, non lo so, non siamo, non siamo, ancora, secondo me, bisogna comprare qualcosa, cioè, il mercato, io, se non fanno mercato, secondo me siamo spacciati, perché le altre squadre sono inforzate, noi abbiamo perso solo giocatori, e non abbiamo, abbiamo comprato De Ketelare, che io vi voglio bene, però, ieri l'avete visto pure in campo, per carità, le qualità, cioè, non si discutono, ma 35 milioni, tu, cioè, entri e mi devi spaccare la partita, 35 milioni alla tua età, con quello che hai dimostrato in Belgio, 35 milioni, cioè, non lo accetto, io che entri e non fai un cazzo, cioè, nel senso, non è che, forse so io che mi aspetto troppo, ormai, perché i prezzi sono gonfiati, non lo so, boh, cioè, nel senso, siamo distratti, ragazzi, cioè, boh, stavo vedendo pure in sottofondo gli highlights, abbiamo creato, però che cazzo te ne fai, non segni, non c'hai quello, quello, quello sprint, io non so che dite sta partita, vi ho detto già tutto, cioè, siamo distratti, non abbiamo giocato per vincerla, ci mancano delle persone, fa fammi vedere la formazione, ti faccio dubaggire al volo, perché, maignan, maignan, voto, eh, sei, sul gol che cazzo c'è deve fare, maignan, è una deviazione, Calabria, boh, per me sei meno, sei meno, non è, non ha, non ha fatto bene, non ha fatto neanche così male, secondo me, Calulu, boh, cinque e mezzo, sei meno, non al livello delle sue potenzialità, Tomori, secondo me sei, è stato l'unico in difesa, secondo me, che ha tenuto bene fisicamente, anche perché, anche lui è molto forte fisicamente, Teo Hernandez si dò un, sei e mezzo, sette, sette meno, sette meno meno, è l'unico che ha acceso qualcosa, poi che abbiamo, tonali, cinque e mezzo, per me non è sufficiente, abituato a vedere il tonali solito, non è assolutamente sufficiente, la partita di ieri, sarà che ormai abbiamo delle aspettative, però, Benasser per me è il migliore in campo, sette e mezzo, sette e mezzo, perché ragazzi, è uno che veramente, voi ancora non capite lo spessore di Ismail Benasser, forse non avete capito che tipo di giocatore è, mi dà fastidio sta cosa, perché è molto sottovalutato, però da un lato, meglio così, così ce lo teniamo, nessuno lo vuole, poi, Messias, regà, Messias io non c'ho parole, cioè non capisco perché sia il Milan, se direi cinque, ma te dico pure quattro e mezzo, si è mangiato un gol clamoroso, però vabbè, poca roba, poca roba, poca roba, poca roba, poi è entrato Selemakers, è entrato pure bene, ma ormai è così il Milan, gioca bene Messias, segna Messias, fa una partita di merda Messias, lo cambi con Selemakers, gioca una partita di merda, però ti dà equilibrio, rigioca un'altra partita, fa cagare, ritorniamo a Messias, ed è un circolo vizioso, e non se ne esce più, Brian Diaz, cinque, raga, cinque meno per me pure, perché non ha fatto veramente un cazzo, poi The Ketteler, sì, quel bel assis, scusate la vera, sei, sei più, non di più, secondo me, Leao, Leao, cinque e mezzo, quando si accende, si vede che è un fenomeno, però, se si accende due volte a partita, c'è comunque, c'è da dire anche, di fare una nota di merito, ai giocatori dell'Atalanta, che comunque l'hanno saputo, anche tenere, quindi, poi, Orighi, secondo me è entrato pure bene, però, si vede che ancora deve, restare un po' il campo, perché, non è palesemente abituato, alla serie A, al gioco nostro, è comunque molto difensivo, e in Premier League, diciamo che sei un po' più, riesce ad essere un po' più propositivo, però, te don sei, Orighi, è entrato abbastanza con Grinta, Rebic, io ti do, cinque, quattro e barra, quattro e mezzo, perché, troppo si vedeva che era un pesce fuor d'acqua, cioè, si è eclissato, cioè, non esisteva più, Rebic, c'è una certa, poi Girou, Girou, io, per me è entrato bene, un 6, io lo do tutto, sinceramente, alla fine, secondo me, ce sta, un 6, se lo merita, perché comunque, le spawn, le cose, la punta, da Dio Girou, è molto sottovalutato anche lui, la sua carriera è stata, sempre ottima, dove è andata, è andata, ha fatto bene, quindi, ok, abbiamo parlato pure delle patchelle, cosa mi lascia di positivo e negativo il match, ora, come struttura manca, allora, di positiva, partiamo dal positivo, di positivo mi lascia che comunque, a livello di gioco, poca roba, a livello, solo una cosa a livello emotivo, nel senso che, magari qualche anno fa, qualche, tempo fa, per un 1-1 con l'Atalanta, saremmo stati anche accontenti, cioè, contenti, ci saremmo accontentati, saremmo dicendo un punto guadagnato, e parlare qui di, rosicare, e di, voler di più, vuol dire che comunque, siamo cambiati come squadra, siamo un po' più forti, dobbiamo essere un po' più consapevoli di questo, secondo me, è un'unica cosa positiva, che ci rimane, quindi la voglia, l'essere tornati, finalmente, a essere una squadra, che compete, per il campionato, perché regà, non possiamo, toglietevi dalla testa, che dobbiamo arrivare tra le prime quattro, cioè il Milan è una squadra, che deve sempre, comunque competere, per lo scudetto, anche che poi non lo vince, va bene, però deve sempre andare, con quella mentalità, perché siamo il Milan, comunque, nota negativa, a parte il gioco, che siamo ancora troppo svogliati, partiamo sempre male, dobbiamo sempre partire con un gol preso, dobbiamo cercare di andare noi in vantaggio, magari, o comunque di fare più gioco, la nota negativa, regà, è che secondo me, so che è stupido, anche forse dirlo, ma è il mercato, ci mancano tasselli, ci mancano delle pedine, per me, ci manca almeno un difensore centrale, se pensassero soldi, io proverei pure a prendere, una riserva per te, o perché ballo durè, prenderei un altro mediano titolare, prenderei un esterno destro, se non due, per cambiare tutti e due, Messias e Seremakers, ma non è FIFA, e lo so, però almeno, leva Messias, tieni Seremakers, panchinaro, prendi un esterno, poi devono prendere Ziyech, se devono prendere Ziyech, non hanno fatto un caso, non abbiamo preso De Ketelare, e basta, regà, cioè di base, questo puoi fare, servirebbe pure una punta, giovane di spessore, ma so che non arriverà, a contentare di un DC e di un mediano, di un difensore centrale e di un mediano, ma so che, forse è chiedere troppo, e niente, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere la vostra nei commenti, like, condividete, lasciate andatela a tutti i milanisti, per vedere se stiamo d'accordo, e sono curioso di sapere la vostra nei commenti, vi cercherò di rispondere il più possibile, se vi è piaciuto questo tipo di video, ditemelo, li proporrò più spesso, se vi piace il mio modo di spormi sul calcio, ditemi, se portare video anche su altre partite, magari che a me diverte parlare di calcio, ci sta, e nulla, oh, forza mia, però, porca troia, cioè, compriamo qualcuno, cazzo, dai, dai,